Siamo qui oggi 10 ottobre 2021, 20 anni fa eravamo a fare a Garbatella la fiaccolata donna educatrice alla pace perché era appena un mese che era successo delle torri gemelle. Chi c'era ricorda bene, deve ricordare bene quello che poi abbiamo fatto in questi 20 anni. Comunque lei è Rosaria e lei è Donatella. Questo è il parco di Rosaria fatto grazie a Fabrizio Fratangeli. Qui c'è la sorella di Rosaria e qui c'è il fratello di Donatella e qui c'è l'attore, l'attore doppiatore ma anche raccontatore di fiabe e in particolare delle fiabe di Fata Garbatella. Qui c'è Susi, poi c'è un amico che non conosciamo, poi c'è Stellina, Pablo e Stellina e Mini che viene dalla Sicilia, è la cagnolina di Fata Cricri che lei ha adottato perché Fata Cricri ne passa di tutti i colori da quelle parti. Allora, noi adesso ce ne andiamo in un bar a fare quello che avremmo dovuto fare e agli altri li abbiamo già mandati al bar. Non credo che faremmo un video al bar perché noi volevamo fare proprio per la giornata mondiale delle bambine e delle ragazze ricordare queste ragazze, visto anche il film tanto discusso che hanno vietato ai minori di 18 anni e poi arriveremo pure da chi lo ha vietato. Però vi voglio far vedere una cosa, il parco è chiuso, non sappiamo perché, lo immaginiamo perché noi siamo magici e abbiamo immaginazione. Ci sarebbe dovuto stare un cartello? Forse, 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 perché è caduto un ramo, forse. Però adesso, prima che verranno a prenderlo e tutto il resto, però guardate bene, il mondo gira come la girandola che sta girando sulla palina di Rosaria. A presto!